Roberto Rossi resta a capo della procura di Arezzo. Il Consiglio di Stato infatti ha accolto il suo ricorso volto ad annullare il voto del CSM che nel 2019 non lo aveva confermato nel suo incarico. Rossi a fine luglio aveva già ottenuto sempre dal Consiglio di Stato la sospensiva del provvedimento che gli era valso il reintegro provvisorio. Il Tar in primo grado invece si era espresso contro il magistrato andando di fatto incontro ad una conferma della bocciatura. Da qui il ricorso al Consiglio di Stato che adesso ha accolto le sue istanze. La vicenda è quella relativa al caso Banca Etruria. Pier Camillo Davigo, già componente del CSM, lo accusava di aver indagato Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, proprio mentre ricopriva il ruolo di consulente di Palazzo Chigi. Adesso la parola fine è la vicenda con una sentenza che nega il nesso con la politica sostenuto dall'accusa, analizzando i tempi di accettazione dell'incarico e l'inizio delle indagini, ovvero dicembre 2015 nel primo caso e febbraio 2016 nel secondo. Le amministrazioni oggetto di appello sono adesso anche condannate a rifondere le spese legali del doppio grado di giudizio a Roberto Rossi.